Dal Vangelo secondo Luca I genitori di Gesù si ricavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Pace e bene, carissimi amici che ci seguite su Padre Pio TV. Sono trascorsi appena alcuni giorni dalla solennità del Santo Natale, e come ormai ben sapete, le grandi solennità del Signore vengono sottolineate dalle cosiddette ottave. Otto giorni vissuti, celebrati come fossero un sol giorno. Bene, nell'ottava di Natale, la prima domenica, ci fa sostare dinanzi alla famiglia di Nazareth. E la liturgia della parola di quest'anno ci presenta nel brano del Vangelo l'episodio del ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Figlio, perché ci hai fatto questo? Gli chiede la Vergine Maria, sua madre, che manifesta insieme a Giuseppe l'angoscia e la preoccupazione per lo smarrimento. Ed egli risponde loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? È solo un breve passaggio del racconto evangelico che ascolteremo, ma che presenta uno spaccato della famiglia di Nazareth e ci offre l'opportunità di riflettere sul concetto di famiglia. Ci rendiamo conto di come sia difficile oggi parlare di famiglia, una realtà che va in crisi nel momento in cui la si concepisce non nel suo valore intrinseco, una realtà che vogliamo spesso accomodare secondo i nostri bisogni, una realtà cui sempre più spesso vogliamo conferire significati che non le appartengono. Non vogliamo con questo polemizzare assolutamente su altre forme di aggregazione, ma certamente sottolineare che la famiglia ha una sua costituzione, un suo valore intrinseco. Ecco allora il motivo per cui la famiglia diventa un esempio per la società odierna, un esempio di società perfetta. Diventa il modello di riferimento e di ogni tipologia di aggregazione. Il verbo di Dio si è fatto uomo ed è venuto nel mondo nella logica che Egli stesso ha scelto per l'umanità. Nonostante l'umanità si fosse macchiata di peccato, Dio entra nel mondo e si affida ad un uomo e ad una donna, a Maria e a Giuseppe. Dio entra nel mondo nel rispetto delle leggi che Egli ha dato al mondo. Essendo Dio poteva sicuramente scegliere un modo differente, invece ha scelto la coerenza con la logica del mondo. Ora, se Lui che è Dio, il creatore del mondo, si è sottomesso alla legge, ancor più noi che siamo sue creature, dobbiamo seguire l'esempio e difendere questo principio fondamentale. Dobbiamo promuovere quanto è stato posto alla base dell'organizzazione dell'umanità. Dobbiamo difendere e promuovere l'istituto della famiglia, perché è il luogo naturale dove la persona umana nasce e cresce, il luogo naturale dove matura il senso ultimo della sua esistenza, la vita eterna nella famiglia trinitaria. Auguri allora perché si possa crescere sempre di più nella consapevolezza di questa verità. Buona domenica a tutti e buona festa della famiglia. Pace e bene. Pace e bene. Grazie a tutti.